Ultima partita di campionato, tra l'altro è importante per la squadra ospite che ha problemi in zona salvezza ed è il Reggio Emilia. Ultima partita di campionato per chiudere bene questa stagione a dir poco positiva. Sì, sarà l'ultima partita di campionato, una partita molto difficile perché il Reggio Emilia verrà a Pistoia con coltello fra i denti perché deve vincere per forza per rimanere in questa categoria di Serie A2. Noi però non dobbiamo regalare niente, bisognerà essere duri e lottare fino all'ultima pallina perché vincere l'ultima partita del campionato è importante per avere un ricordo positivo di una stagione che comunque è sicuramente al di sopra delle nostre possibilità. Tra l'altro in questo girone di ritorno state lanciando giovani che vi stanno dando delle risposte più che buone. Sì, siamo molto contenti perché anche nella partita molto complicata con Uras il giovanissimo Francesco Gori ha riuscito a fare il gol del 3-3 che ci ha dato la speranza fino all'ultimo minuto poi però gli Uresi sono riusciti a vincere sul filo di lana. Siamo molto contenti ma comunque dobbiamo continuare così e anche sabato sicuramente non lasceremo nulla indietro. Allora resta da dare l'appuntamento per seguire la squadra in questa ultima partita di questa ottima stagione. Sì, sabato ore 15 Campofrascari, Pistoia, Reggio Emilia, Città del Tricolore sarà sicuramente una giornata di sport e di divertimento e vi aspettiamo al Campofrascari.